Il polo progressista, civico-ecologista è esattamente il progetto lanciato da Conte all'uscita da Palazzo Vici. Oggi questa lista nel Lazio a sostegno di Donatella Bianchi, presidente, e con i civici che entrano in questa lista, è l'avvio di quell'urivo eco-digital, una sorta diurivo 4.0, che Conte potrà guidare come alternativa alle destre. Le coalizioni ecologiste e progressiste devono essere l'alternativa che permette di dare speranza ai cittadini italiani. Ecco perché nel Lazio è giusto il voto Donatella Bianchi.